Una volta ripresi, hanno tentato ancora una volta e sono stati ripresi i controattaccanti. Adesso guardiamo il gruppo, era ancora compatto. Se non succede qualcosa negli ultimi metri. Ho detto che è una volatona di gruppo. Adesso ci informiamo di che è arrivato il dacopo a Dio. Ecco, ha vinto Andreoli, ha tentato due o tre volte. Ha vinto Andreoli, ha tentato due o tre volte la fuga. Non ci ha dato?